bene abbiamo iniziato questa sessione per stefania benvenuti a tutti e ciao a tutti allora ti conto conto come sempre da 5 a 1 e ti connetti a stefania 5 4 3 2 o dimmi se la vedi se la vedo mi viene incontro saltellando con un grosso mantello che svolazza con le braccia e sotto questo mantello tiene come se per proteggersi prendersi cura a sua mamma suo fratello e suo papà ok ti dà l'autorizzazione se sì assolutamente se causa esoterica della sua sordità vediamola subito allora è un contratto che suo papà ha fatto nel suo cluster di suo papà proprio è come se fosse stato interferito in quell'anno nel 92 quando è capitato di accorgersi di essere sorda ha fatto questo contratto che riguardava appunto tutti i suoi familiari tutti quelli che vivevano con lui è come se avesse fatto una promessa di scambio energetico ok stefania poi sistemo non ti preoccupare stefania ok e stefania ha fatto un contratto perché nessuno è contratto per qualcun altro certo l'hanno accettato tutti e tre quindi stefania la mamma di stefania il fratello hanno anche loro accettato questo contratto è stata proposta tutti e lei l'ha accettato sono tutti e quattro dello stesso cluster quindi sì 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 con chi l'hanno strattito allora sopra vedo è un po umanoide però le ali tipo d'aquila è come se fosse fosse come se ci fosse un trespolo circolare e lui è sopra il trespolo e apre le sue ali come per dire voi siete qua dentro al a quello che abbiamo deciso di fare a cui voi avete detto di sì e qui dovete rimanere come si chiama questo qua si chiama dartù è un falconiforme umanoide sì esattamente solo falconiforme no no è anche umanoide al viso umano e poi ha tipo le braccia con sopra le ali però le gambe sono da uccello prezzante ok quando è stato stabilito questo contratto tra stefania ed artù è stato stabilito nel 92 nel 1992 ok però cosa cosa ne porta in una due frasi cosa comporta io garantisco che le persone che ti girano intorno vogliano bene questo mi riesce però tu mi dai posso usare le tue orecchie tramite un impianto per sperimentare la presa di energia di anima e così è c'è un impianto nelle ore si è visto fatto due le parti vediamo tutti gli impianti ok ne ha uno sopra tipo dove c'era la foto e c'è la fontanella dei bimbi quei due nelle orecchie uno a livello dell'utero e poi sulle sui dorsi dei piedi ok quello a livello dell'utero cosa serve allora l'avevano messo per poter provare a vedere se riuscivano a avere degli umanoidi metà dna di stefania e metà aliena in alcune abduction che lei ha subito entro i 18 anni hanno fatto qualche volta non le hanno più fatte però l'hanno lasciato lì come se potesse tornare utile quante sono le abduction di stefania in totale in totale ce ne sono delle altre totale 150 fino ad oggi ok chiamiamo le altre interferenze le altre entità oltre al falco di forma ok sia in su che in giù ok allora in giù ci sono tre soldati 4 e dl e due rettili in su abbiamo ma in su io vedo solo lucas come si chiama il progetto che titolo ha il progetto di stefania relativa stefania diamant perché ma perché attraverso questa tecnologia volevano cercare di riprodurre esattamente l'energia che noi umani traiamo dal diamante ci sono riusciti no ne hanno presa un po di queste anima di stefania ma si è esaurita no 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 allora ne hanno presa un po un bel po un po si è ricreata negli anni perché hanno smesso quando aveva 18 anni no certo in stefania si ricrea e non ci sono problemi ma quelli che loro quello che loro prelevano come come energia di anima come come viene sfruttata allora in quel caso lì non sono riusciti a conservarla allora praticamente la estraevano dalle orecchie di stefania e la si arrivano in queste specie di provette giganti a forma di gocce però è come se svanisse pian piano è come se allora prima pensavano che era perché prendeva luce poi hanno provato a metterla al buio ma svaniva comunque ci metteva un bel po è perché durava anche anni 3 o 4 anni prima di svanire completamente però poi si accorgono ma quando si stacca dell'energia di anima da una persona l'energia cambia visto che quello che io vedo è sì allora all'interno della persona la vedo come se fosse una gelatina viola ok che fa tipo una sfera che però si muove però come se fosse una sfera all'interno quando viene ciucciata proprio diventa come se fosse una polvere bianca le cambiano una sorta di stato siamo chiaramente parlando così in termini simbolici non c'è vediamo se la similitudine può funzionare come se l'anima di stefania di tutti quelli che ce l'hanno fosse un giacimento di benzina infinito quando si estrae un bicchiere di questa benzina e si butta su un tavolo la benzina inizia ad evaporare si è calzato è come se evaporasse la parte liquida facciamo finita e rimane tipo esatto un residuo che però poi svanisce perché senza la parte liquida non può esistere ecco che cos'è la parte liquida come la definiresti come ti cosa che arriva se ti faccio questo domanda la parte liquida è proprio l'essenza lettere secondo me è tutto quello che che c'è a livello umano è fatta così perché nell'umano diciamo che lettere questa forma è il chi sostanzialmente è sì ok si potrebbe corrispondere va bene quindi il perché nel nel 92 in realtà è nel 92 perché nel 92 è perché è stato attivato lì il contratto si c'è un pozzo d'acqua nella casa che può essere può fungere da conduttore ma potrebbe essere che magari hanno scelto quella casa in quel posto lì con il pozzo e l'energia come punto favorevole al all'estrazione dell'energia di anima ecco lo vedo come c'è loro sono sempre lì chiunque venga provano a sperimentare queste cose diciamo che c'è una causa esoterica e questo è il contratto si esatto le cose e poi una causa anche fisica che lo supporta si è esatto che lo facilita quindi il pennone cioè l'alta tensione c'entra con l'assurdità aiutato aiuta assolutamente qua di uva il si facilita assolutamente sì per questo motivo non so faccio un esempio una persona alla cuffie ne chiaramente una carta fisica non so troppo forte la musica da ragazzo e poi c'è una causa esoterica e quello può essere il trauma diciamo che anche le che ci sta lì si passa le giornate lì insomma togliendo una causa esoterica può passare l'elemento fisico sia sto dicendo e guarendo a livello fisico può indebolire la causa esoterica eliminata quindi tutte le cose vengono viste da un angolazione e sono corrette l'importante è non ignorare come fanno tutti l'esistenza anche di una causa esoterica che c'è sempre esatto dice sempre nel senso nel momento in cui c'è una qualche cosa di qualsiasi tipo che altera tra virgolette un po all'equilibrio della persona posso dire così è come se si aprisse un canale per far sì che la la parte esoterica possa liberamente iniziare a interagire interferire questa è una cosa che sembra banale ma in realtà è molto importante il gioco in cui siamo immersi funziona in questo modo se c'è una causa fisica c'è anche una causa esoterica assolutamente se contemporaneamente se una l'altra non c'è una una più importante dell'altra no 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 devono esserci tutte e due per poter essere così ecco ok gli impianti li abbiamo visti l'entità l'abbiamo vista il nome del progetto l'abbiamo visto causa esoterica di disamore per se stessa è più un'interferenza mentale la vedo proprio un interferenza mentale che deriva da lo schema familiare che l'è stato imposto assolutamente allora questa interferenza mentale è uno degli argomenti che mi interessa di più in assoluto in ipnosi esoterica infinitum perché questo è il next level qui è dove bisogna andare a abbattere ti faccio una domanda sulla unica semplice diretta esistono entità mentali allora io vi vedo nel momento in cui tu me l'hai detto visto come se fossero si entità che hanno la forma tipo di scosse elettriche molto bene chiamare ok si è presentato proprio una forma umanoide però fatta di elettricità tipo fulmini elettrici come fatta come fulmini oa una forma umanoide a una forma di umano ma come se fosse disegnata da queste piccole scosse che si muovono sì sì questo come si chiama sta confondendo non lo vuole tanto dire la senti come un'entità diversa dalle entità solide esoteriche allontanati alza la tua frequenza è obbligato a risponderti con il suo nome darwin ok domanda darwin esiste solo per stefania o darwin è un'entità mentale nel corpo mentale nella mente collettiva a cui qualcuno si connette per esempio stefania e qualcun altro no perché decidi di non connettersi cioè le entità mentali questa è una mia idea idea ma è una specie di di colpo di genio che mi è venuto l'altro giorno io credo che ci siano queste entità mentali che differentemente dalle entità eteriche siano il corpo mentale sono lì 2 3 4 5 10 20 tipi poi arrivato anche un bel flash a skype e le persone che hanno dell'interferenza a livello mentale è il mentale le malattie mentale per esempio si connettono a uno di questi dieci personaggi facciamo finta quanto di quello che ho detto corrisponde quello che vedi quello che io vedo e allora c'è lui che è un tipo al terzo livello su dieci ecco quello di ele quello di stefania è a tipo tre su dieci come livello ce ne sono due due livelli sotto che sono quelli che lui controlla che hanno delle influenze molto piccole piccoli pensieri ricorrenti ok invece da otto nove dieci sono proprio quelli che riescono a controllare completamente la mente della persona da farli addirittura da fargli fare cose che se fossero se non fossero interferiti mentalmente non farebbero proprio esempio il pazzo più pazzo che c'è mal 10 sì esatto esattamente sì quindi l'uno è basso 10 e altro sì sono dieci quindi questi personaggi dieci livelli dieci livelli direi alde al decimo mi sembra ce ne siano 56 come sono fatti quelli del decimo anno più o meno la stessa struttura ma sono più come se fossero più fermi le scosse più delineate più regolari delle linee ti potrei dire tipo che corrisponde cioè come se rappresentasse tipo i meridiani sono nella mente collettiva sono nella mente collettiva soprattutto agiscono a livello collettivo ok domanda cos'è mi table non solo a livello dei dieci lo collocheresti la disposofobia dove la collochi 6 come fatto il sesto livello allora sesto livello vedo questi questi qua ti direi sono una sessantina come se si tengono per mano per poter continuare il loro progetto a livello collettivo e hanno queste come se fosse uno lo scheletro umano però fatto di tubi tubi elettrici vedo questi tubi dove passa l'informazione che sono tipo tubi illuminati non posso descrivere così c'è solo la disposofobia questo sesto livello no c'è c'è allora mi è venuta dislessia non so mi è arrivato così claustrofobia molto bene ma ce ne sono tante altre c'è l'inizio della della schizofrenia ma proprio sei primi step partono da lì questa è una sessione epica cosa fa lucas di fronte a questa analisi allora lo vedo come se dovesse rimettere a posto i suoi burattini quindi fa una disposizione diversa rispetto al solito setone indietro un pochino sulla linea del tempo dove siamo tipo qualche minuto fa è come se lui fosse seduto a godersi lo spettacolo e adesso è come se si fosse alzato in piedi e rimette a posto i burattini perché come se avessi avessimo scoperto una cosa che lui era molto funzionale per i burattini delle entità mentali si esatto da normali no no certo bene su questo argomento lavoreremo da adesso in poi in maniera bene darwin terzo livello disamore per se stessa stefania stefania ora come parte sull'unale detere lo vede stessa domanda sulla sua sensazione di non essere sufficientemente femminile non amare trucchi smalti abbigliamenti femminili pur essendo donna la propria femminilità più che definita sempre darwin ok tendenza relazione a lasciare ma abbandonare le relazioni con distacco quasi freddezza allora allora ti dire allora è sempre darwin ma qua è come se mandasse all'opera 22 entità mentali così vuole chiamare così del 2 del secondo livello e una del primo che sono quelle che agiscono proprio sei tipo li vedo quasi che spostano i neuroni no da una parte all'altra per cambiare le connessioni i dieci livelli di entità mentali sono nel mente collettiva sì sì assolutamente funziona va bene causa esoterica della laparotomia del 2014 realizzata in seguito a un problema diciamo sul lavoro e che non ha portato a nulla se non a un intervento chirurgico molto invasivo e molto impattante su tutti i livelli anche psicologico non soltanto fisico l'interno se qua vede una cosa tra un po particolare dal solito nel senso che lei è arrivata al lavoro serenissima tranquillissima ha avuto questo shock diciamo tra virgolette shock nel senso che era già bassa di energia gli hanno dato questo gran peso lei si è un po squilibrata a livello energetico il un'entità che però era un amante dell'ora ma non c'è più ha preso l'occasione per inserirle questo impianto questo grosso impianto a livello dell'intestino che ha che le ha provocato questa reazione di forti dolori quando hanno fatto l'intervento per assurdo l'hanno liberata da questa cosa e quindi dopo l'intervento è andato piano piano scemando ha si è tolto il base l'impianto serviva quello probabilmente ai probabilmente sì sì perché da un'operazione non si toglie un impianto no 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 esatto però dopo l'operazione l'impianto non c'era più va bene c'è una ps quindi dopo le varie abduction e cercano di prendere la quindi esistono a piacere una scarsa comunicazione tra lei e la ps allora le sue interferenze mentali darveni principalmente con quelli sotto di lui quei tre sotto di lui sono sempre riusciti fino ad oggi a farle fare l'opposto di quello che la ps le diceva di fare quindi ecco un po come quando lei dice faccio cose ma che non voglio di fare esatto è come se il messaggio della ps gli arrivasse mi fosse sempre arrivato poi interveniva darwin e faceva l'opposto quindi lei ha fatto l'esempio voglio andare al mare in vacanza quest'anno ma le circostanze che portano ad andare in montagna io accetto la ps le dice deve andare al mare perché lì ci sarà tutto un discorso di connessione che ne so e darwin entità mentale fa in modo che lei vada in una montagna esatto ovviamente noi vogliamo male alla montagna e bene al mare ma soltanto come siamo accerti va bene causa esoterica del fatto che non riesce a cambiare un lavoro che non le piace di fatto allora vedo qualcosa proprio sul posto di lavoro non riesco bene a capire c'è allora c'è un soggetto che come se la ipnotizzasse tutte le volte che la guarda uno dei suoi capi che tutte le volte che stefania incrocia il suo sguardo la ipnotizza e come se la convincesse che non può far altro che quel lavoro lì quindi e lei lo traduce con posso fare solo la dipendente perché un pochino si sta aprendo l'idea di cambiare lavoro quindi quello che le rimane è io posso fare solo la dipendente ok questo capo è interferito da qualcuno da quali entità che ha il che è in accordo con quelle che abbiamo visto di stefania no no è proprio solo per il suo scopo non c'è una collaborazione in questo caso quindi no 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 a volte c'è sì no e qual è la causa esoterica del fatto che lei risuona con le piante e quindi vorrebbe un impiego in questo ambito allora è una memoria di una vita passata parallela passata dove lei ha già fatto questo lavoro e lo faceva molto bene in quella vita lì le ha permesso di vivere bene nel senso era una delle cose che hanno fatto sì che lei potesse continuare a vivere nell'abbondanza perché le riusciva proprio bene quindi era molto ricercata potrei che una donna si era una donna la vedo mezzo ai campi proprio che richiesta potrebbe essere fine settecento inizio ottocento ma richiesta per cosa perché per la sua cioè nell'ambito agricolo che esatto quindi nel gestire non fa le sementi esattamente comprendere l'esatto momento della semina la raccolta ma era una biologa o era una contadina considerata una sensitiva una saggia può essere saggia si è come se avessero visto allora io la vedo come se fosse migrata negli stati uniti quando in quel momento in cui regalavano le terre lei dalla piccola terra che gli è stata regalata è riuscita a fare delle grandi cose a livello agricolo soprattutto per quanto riguarda le piante quindi appunto riusciva a farle proliferare in maniera un po anomala come si chiama lei in questa vita nancy qual è la causa esoterica della del dialogo con le piante sia di nancy che chiaramente anche di stefani e poi è un po il pollice verde il concetto il discorso di pollice verde esattamente alcuni risuonano col mondo vegetale altri 0 allora allora in quella vita lì però anche in questo adesso ho visto che è la stessa cosa aveva una pa è come se avesse una parte di dna vegetale che è proprio quella parte che fa sì che loro proliferano e ce l'hanno in comune e quindi vibra alla stessa frequenza questo fa sì che stefania e nancy siano in grado di di farlo automaticamente come se dna eterico vegetale però si viene a eterico di stefania deve essere umano che percentuale c'è di vegetale pochissimo è proprio solo quella parte lì mi viene due per cento ok infine parliamo di gabriele contatto telefonico casuale incontro dal vivo una sola volta elementi per definire che sia una sua la sua fiamma è così allora io vedo che allora io vedo che c'è questo guardia del tempo che ha fatto in modo di creare questa telefonata per far sì che lui si agganciasse ad elena quindi elena ha accettato di essere agganciata perché il guardiano del tempo vuole che lui si stacchi da quella situazione in cui si trova ora ea elena risuona ha accettato guardiano del tempo cosa intendi uomo del tempo si scusa uomo sì 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 no questo uomo del tempo vuole che questi due si incontri no ha fatto in modo che loro due si incontrassero il suo scopo di questo uomo del tempo è che gabriele si stacchi dalla situazione in cui si trova ora e no strano perché di solito di uomo del tempo non favorisce l'incontro tra due persone con il sospetto che siano fiamme sono fiamme quindi no ma io quella cosa lì non la vedi io la vedo proprio come uno strumento che lui ha usato temporaneamente per far sì che lui si staccasse a che scopo perché di là è troppo forte viene allora analizzava dal punto di vista che gabriele analizzava di vista di stefania semplicemente è la sua fiamma no questo incontro ha creato in gabriele quello che non ci importa si è mai in stefania ha creato confusione stefania ha creato confusione perché è riuscito ad attivare delle cose energetiche che lei non ha mai sentito prima ok che si sposa con il lavoro di vita sentimentale come definirla però finire una relazione anche importante con distacco certo non porta ad avere un'idea di se stessi di vita sentimentale propria elevato no è un fronte sul quale stefania sente di dover lavorare se c'è una coincidenza tra il lavoro di darwin e questo uomo esatto sì 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 infatti ok esatto lei era grazie a darwin lei a livello energetico si abbassa rispetto a questa cosa riesce a abbassare la sua frequenza e per l'uomo del tempo è stato molto utile molto efficace agganciare elena perché in una frequenza facile per lui da gestire va bene dov'è la fiamma di stefania se è incarnata ovviamente sì 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 la vedo in questo momento è tipo nel sud ovest della spagna ok verso il portogallo verso il costello di gb serra sì fino prima ancora spagna però lì si è un uomo spagnolo se come si chiama salvador ok siccome la parte subliminale la stessa sente quello che sta succedendo sente in questo momento è come se fosse elettrizzato alle persone intorno appare un po agitato però sorridente allegro va bene chiamiamo il padre di stefania è arrivato subito come se fosse scorso su un binario non c'è essere arrivato come un treno si si è da un successo del cardobone nelle miniere di se buona uguale ok come lo vedi lo vedo come lui lo vedo che è lui lo vedo proprio lui in piedi punto come se fosse se avesse due pattini uniti a questo binario e dice mi dice stefania sono disposta a fare tutto quello che è necessario noi non siamo qua non abbiamo chiamato per aiutare stefania ma per aiutare se stesso quindi gli offriamo un bel diamante nel quale dentro ci sono tutte le informazioni delle mie sessioni e vediamo se lo accetta e cosa ne fa allora un po titubante come per dire ma io come si dicesse non mi merito niente nessun regalo non è un regalo sono solo informazioni che adesso l'ha preso nelle mani e lo sta guardando come se volesse vedere cosa c'è dentro ma gli ho suggerito di aprirlo che si può aprire l'ha fatto ok i diamanti sono i migliori amici delle donne ma anche degli uomini quindi se vuole può assorbire questa informazione che è solo informazione non è interferenza non è un'idea di come sono delle cose e solo informazioni non può accettarla metterla in discussione non accettare la città la tutta città l'impatto ogni caso sono informazioni che lui non avrà mai l'occasione di avere in nessun altro momento se non in questo no no le sta assorbendo tutte proprio a livello vedo che entrano proprio come un flusso nel suo cervello il padre di stefania è collegato alla terra ah sì dove anch'io la cosa vive nel giardino della casa dove vive la mamma di stefania dove si attacca come se lo vedessi sempre su un asdraio di legno in mezzo al giardino esistente davvero il te rica ma no mi sembra eterica quindi è attaccato anche alla moglie se a tutti anche al fratello di stefania il suo fratello di lui vedo lo inviteremo fra poco ad andare attraverso un portale e a staccarsi da tutto quello che è terreno ma questa è l'occasione finale per dire qualunque cosa voglia dire a sua figlia se vuole se mi dice stefania sei perfetta così ok vediamo se fa tutto da solo si stacca allora ha aperto il portale e vedo tipo un grosso tipo mare molto esteso e un surf che lo aspetta lì l'aperti lui è un po titubante ad andare un po indeciso prima di andare si stacchi dal giardino della moglie eventualmente da stefania eventualmente da oggetti anche vegetali per esempio in questo caso presenti nel posto a cui è attaccato la casa le persone da tutto sia per non interferire luoghi persone cose animali vegetali sia per essere veramente libero di andare a fare in questo caso ok se si si ok se stacca è andato sì 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 si è proprio staccato da tutto è andato già di là perfetto sentato e allora avviamoci verso le fasi finali prima però dimmi elena solo cosa facevano cosa fanno i 4 dl come agiscono su stefania allora tre girano intorno e girano intorno e come se si assicurassero che lei sempre lì disponibile ad accettare un loro ricatto tra virgolette però fanno in questo momento sono un po neutro come se controllasse la situazione quello che ha in cima sulla testa crea come delle piccole scosse che vanno su tutto il corpo su tutta la diciamo la parte esteriore del corpo di stefania fino ai piedi è come se creassero uno scudo per per mantenere il lavoro che fa che fanno loro che fanno per non fare per impedire a stefania di capire che ci sono delle entità esterne che interfiscano con lei ok esiste una collaborazione tra le entità mentali e gli edl sì di che tipo ecco questo gli edl controllano che lei non si accorga cioè mantengono proprio la se dovessimo semplificare con il braccio la mente i direlli sono il braccio e le entità mentali sono la mente sì esatto cioè chi comanda sono entità mentali reale su quattro sciamannati sì esattamente altra interessantissima teoria che valuteremo poi nelle prossime sessioni bene diamo queste informazioni di tutte le sessioni fatte e di questa attuale che vabbè inevitabile stefania la sta vedendo quindi lea a stefania lei può ora andare al cluster non soltanto modificare a nulla quel famoso contratto relativo alla solidità che lei ha sottoscritto sull'iniziativa del padre ma lei ha accettato ma può eliminare tutti i contratti di tutte le sue vite precedenti proposito quanti sono quante sono 793 ok vediamo cosa fa ha proprio fatto una pulimenti 12 di andare al cluster la vedevo già proprio la che ha fatto proprio è proprio sono tante pile di documenti proprio di fogli e ha fatto proprio un movimento con il braccio e le ha spazzate via ok invece di spazzarle via le deve proprio mettere dentro un portale definitivo in modo che non siano solo spostate ma che se non credo eliminate come forma energetica in un contenitore un portale a un contenitore che le scompone energeticamente sempre di più sempre di più sempre di più sempre più nel piccolo all'infinito energia la stessa ma innocua di basica ridotta alla base gli amminoacidi le proteine no è ridotta da almeno c non ti sento più mi senti cioè la messi questi contratti sì 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 come apparivano questi contratti che non ho capito come libri quaderni poi fogli pile di fogli messe in contenitori o libere così no libere su un piano ok si vuole eliminare anche il piano lo può fare ok perfetto chiaramente questo che stiamo facendo è alla disposizione di tutti quelli che vedranno il video ma anche il dirico al fratello la madre e il padre che non bisogna invitare al padre l'abbiamo già fatto con il fratello e madre che non possiamo invitare esplicitamente anche perché però in etere quello che stiamo a fare ok con questa sola semplice condizione cosa è cambiato dell'impianto interferente di stefania se è cambiato qualcosa non si sa più nulla i due impianti quelli nelle orecchie non ci sono più ok gli altri impianti gli altri ci sono ancora ok le interferenze eteriche allora c'è solo c'è l'umanoide con le ali c'è ancora lucas lee che cerca di sistemare interferenze mentali quindi c'è ancora darwin che però vabbè si darmene un po spiazzato perché gli edl sono andati via insieme agli impianti però ok andiamo all'avatar vediamo se concludendo il lavoro si elimina tutto quello che è rimasto dimmi come vedi l'avatar di stefania il fantoccio la postazione lo schermo se vede la postazione proprio una scrivania con lo schermo vedo la forma vedo come se fosse un omino di legno il manichino dei modelli sì tipo da farci anche da fuori da sapi sì sì credi che ma lo vedo un po arreso nel senso complice ok tanto so che non c'è più niente da fare ok portale definitivo via via se fango lei ovviamente se questi cielo getta proprio tutto dentro tutta la postazione lui interi dentro e ha chiuso benissimo esistono ancora i militari gli dl i rettiliani un uccello le forme lucas per stefania ovviamente no il progetto diamond e le 150 abduction totali andati tutti ok l'entità mentale disconnessa darwin è disconnessa da stefania o non esiste più non esiste più per stefania per stefania no no sì sì per stefania ok però esiste per altri si cambia come se cambiasse nome non so tutti quelli che hanno disamore per sé hanno questo darwin diciamo che però si chiama darwin per stefania e qualcun altro molto interessante cosa fa lucas che non è più connesso a stefania ma ora è disperato così burattino vedo proprio come se dovesse cambiare il burattino e non trova una sequenza in questo momento è come se dovesse ristudiare tutto senza stefania come se fosse tutto un equilibrio ok come le particelle coi quanti che se ne sposti uno deve deve riregolarsi tutto l'equilibrio come se fosse lì al lavoro a fare questa cosa la vita di nancy esiste ancora no 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 allora le quelle le vite che vedo io ora sono 350 ed è saltata quella di nancy perché non esiste più questo dna al 2 per cento vegetale io non vedo più nancy nancy è andata insieme a quelle vite che sono andate ok però il dna di stefania lo vedo uguale ok a quanto vibra stefania adesso 750.000 ok quanto vibrava all'inizio 350.000 psp sono in equilibrio 46 ps e 54 che renderanno un equilibrio nei prossimi giorni sì 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 vedo tipo se di essere anche 51 benissimo prima di chiedere alla ps e alla pia di stefania di lasciare un messaggio a stefania scriviamo anzi scrivo io su un foglio di carta vi abbiamo scoperto e ora sono cazzi vostri e questo foglio lo metto nel corpo mentale nella mente collettiva è un messaggio per le entità mentali è una dichiarazione di guerra ok visto che il corpo mentale è l'elemento su cui nessuno ancora lavorato insieme a lavorare come se ti vedo proprio che hai messo più fogli sparsi come sei fogli wanted ecco così che cosa causa questo di foglia è sotto un po stupiti e una cosa nuova vibra come se sentissero una vibrazione nuova una frequenza vibratoria nuova che gli squilibri un attimo messaggio finale a stefania di psp e congiunte noi fluiamo come un fiume lascia andare sia quando è in piena che quando è in secca ogni goccia fa parte della nostra fluidità ok basta lei come la vedi adesso la vedo senza mantello la vedo in tenuta estiva con tipo di bermuda e una canotta e nel tradito sta per andare in spiaggia come vedi la ps come fatta come la visualizza la sua allora prima era come se fosse una rana prima era come se fosse una rana che cercava di saltare ma è come se faceva l'inizio del salto poi doveva tornare indietro ora invece la vedo come la vedo come la signora su una sedia è presente tipo quella dei registi con un cappello di paglia molto largo con gli stili da donna con il cartello ciac che è pronta per fare ciac si gira l'inizio di nuovo film c'è un futuro con le piante con queste nuove condizioni per stefania io lo vedo il futuro lo vedo libera da quel da quel condizionamento di quella vita la però come dicevo prima il suo dna lo vedo ancora con il 2 per cento come se la memoria fosse stata comunque lasciata della ps ma avesse solo cancellato la vita di nancy quindi ecco questo 2 per cento nel dna di elena lo vedo ancora la parte subliminale è d'accordo nel lasciare questo 2 per cento sì ok questo basta va bene allora elena disconnetti chi da tutto e tutti io al resto la registrazione